Amici 2023, registrazione quarta puntata e Remo rischiano l'eliminazione. L'appuntamento con il serale di Amici 2023 prosegue su Canale 5, il prossimo sabato 8 aprile. È in programma infatti la quarta puntata in prime time. I colpi di scena non mancheranno dato che per i concorrenti che sono rimasti in gara la sfida diventerà sempre più complicata. Qualcuno di loro alla fine si ritroverà così a dover dire addio alla gara. Dopo l'eliminazione molto discussa di Sanu, si potrebbe assistere a due uscite dalla scuola di Maria De Filippi. Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Amici 2023 rivelano che il prossimo giovedì 6 aprile ci sarà la registrazione della quarta puntata del serale. I cantanti e i ballerini di questa 22esima edizione si ritroveranno di nuovo nello studio del talent show pomeridiano Mediaset per le riprese di questa settimana. L'appuntamento con il talent show, invece, è confermato come sempre nel primo time di sabato 8 aprile. Ma cosa succederà nel corso di questa quarta puntata del serale? La registrazione del prossimo giovedì potrebbe essere caratterizzata da una nuova doppia eliminazione definitiva dal cast. Non si esclude, infatti, che dopo lo stop della terza puntata, si possa tornare di nuovo alla doppia uscita nel corso della quarta puntata dello show Mediaset. Al momento sono diversi i concorrenti che arrivati a questo punto della gara rischiano di essere fatti fuori dal cast del serale. Tra questi spicca il nome del cantante Cricca, il quale dopo essere finito diverse volte al ballottaggio eliminatorio. Questa settimana potrebbe avere definitivamente la peggio. Stessa sorte anche per la ballerina Maddalena che in queste prime puntate del serale è stata duramente bacchettata dalla temutissima prof Alessandra Celentano. Tra gli allievi a rischio figura anche il giovane Remona. In attesa di scoprire il verdetto finale sugli eliminati della quarta puntata di Amici 2023. C'è stata una polemica social per l'eliminazione di Samu a termine della terza puntata di questa settimana. Il ballerino ha perso la sfida al ballottaggio finale contro Wax e le reazioni dei fan al riguardo sono state a dir poco funeste. In tantissimi hanno polemizzato sulla pagina ufficiale social del talent show, sostenendo che si tratterebbe di una eliminazione completamente ingiusta. Dato che Samu avrebbe meritato di portare avanti questo percorso e arrivare ad essere uno dei candidati alla vittoria nel girone danza di questa edizione. Sunt un crucișetor, lansand rachete aerosol, inca de cand el era broke si se usa da aerosol. De cand avea mall, de cand nu stiai ce un miscol, de cand ascultam gangsta rapper baza pe pistol. Daca nu intelegi textul suno pe Irina Nistor, va intalniti in tristor, la zero grade viscol. Nu tag nici stins mort, o sa mauzi prin sol, transpir hip hop prin pori, bile mari zintori. Ca stii ca dupa trimi ciocanul mare, inspre cer si dau jos carul mare. Ha!